Ciao bellezze bentornati sul mio canale Genesis Nirvana. Allora guardando un video, ossia un video di una caverna massonica scoperta in Oregon, ho collegato diversi punti e volevo parlarvene. Allora partiamo dal video se riesco a farvelo vedere, abbastanza bene. Donatevi per l'audio, che possono essere scoperto dell'incorporanza. Premessa, questa caverna in Oregon è poi stata chiusa con un cancello e sono state trovate varie scuse per ciò che è stato trovato al suo interno, che poi vi dirò. La ridata in D, profonda e oscura, quindi non si arrivano a trovare le due fila di seggi. mi chiedo cosa facciano qui. Finché non trova, esplorando ancora di più delle scarpe, non si trovano un mix di scarpe, e piccole scarpe insieme ad ossa di vario tipo. probabilmente ossa animali o ossa di altro tipo, sicuramente vedete il simbolo massonico. ossa animali o ossa di altro tipo. In seguito la caverna è stata chiusa, è stato detto che a causa di, diciamo, delle possibili alluvioni, quel materiale è stato portato dall'acqua all'interno della caverna. E dalla caverna vi rimando al mito della caverna, il mito della caverna di Platone. Quindi l'importanza della caverna. Il mito della caverna è la massoneria, ok? Questa è una rappresentazione grafica del mito della caverna, ossia, vedete queste persone legate, incatenate al muro, che possono vedere soltanto verso il muro e vedono delle ombre. non riescono a vedere cosa c'è al di là del muro, vedono solo queste ombre proiettate sul muro, sono lì da sempre, quindi loro credono che la realtà siano le ombre. Successivamente un prigioniero viene liberato, percepisce la luce esterna come accecante, non vuole uscire ma alla fine viene forzato ad uscire, vede la realtà, vede la realtà delle forme, degli esseri illuminati dal sole e torna addirittura indietro nella caverna, lo dice ai propri compagni, diciamo si rimette al loro posto, ma questi compagni gli danno del pazzo e vogliono ucciderlo. Questo in poche parole è il mito della caverna di Platone, che potete approfondire. Questo è simbolo sinonimo di l'arrivo alla conoscenza, la verità, quindi il passaggio dall'oscurità della caverna alla luce della verità e della conoscenza. Trovate molti scritti riguardo al mito della caverna in siti massonici, riflessioni massoniche, vedete, loggia, glrs, riflessioni massoniche sul mito della caverna di Platone. Dalla caverna platonica al mondo come caverna tecnologica. Questo è il grande oriente d'Italia, palazzo Giustiniani, massoneria universale, serenissima gran loggia del rito simbolico italiano. Che bello, ragazzi, eccoli qua. Dalla caverna platonica al mondo come caverna tecnologica. Ciò che viene ricordato come il mito della caverna di Platone può meglio considerarsi come un'allegoria, in quanto il significato letterale dello scritto platonico adombra un'interpretazione che spazia dal concetto di bene al concetto di conoscenza. Cioè, in ultima analisi, al concetto di verità. Quanto pensano di avere in mano la verità, questi massoni? Mentre noi sappiamo che la verità è una, ok? Io sono la via, la verità e la vita, dice Gesù. Altra verità non c'è. C'è l'inganno di colui che è omicida e bugiardo sin dal principio. Ok? Anche qua. Vediamo questo. Un'altra lettura del mito vicino alla simbologia massonica prende in considerazione il gabinetto di riflessione, che è una fase prima della fase iniziatica. Quindi, prima dell'iniziazione al cammino massonico, il luogo che rappresenta l'elemento terra, dove inizia la cerimonia che condurrà il profano alla vera luce, io direi alla luce di Lucifero. Applicando a questo luogo oscuro il concetto di caverna platonica, si potrebbe supporre che fra i tanti profani che vi sono passati, solo pochi abbiano compreso il significato dei simboli e delle frasi che vi si incontrano. Sono coloro che hanno inteso correttamente il significato sacro del vitriol e perciò verranno presi in custodia dal maestro esperto preparatore per proseguire nel rituale di iniziazione e si hanno meditato a lungo nel buio della caverna. Visita interiore a terre. Hanno compiuto una metamorfosi interiore, rectificando, scoprendo che ciò che sembra vero potrebbe essere solo illusione, che esiste una vera luce. Quindi l'illusione delle ombre che vedevano proiettate la vera luce del sole, occultum lapidem, in grado di illuminare la realtà in senso metafisico. Ok? Un'altra. Platone e il mito della caverna. Vediamo. Gran loggia d'Italia. Degli antichi liberi accettati muratori. Platone e il mito della caverna. Officine Abstract di Giancarlo Guerrieri. Ok? Il mito della caverna. Centrale questo elemento caverna. Ok? Voglio farvi rivedere il video. Questa è una versione più breve. Se vedete, una caverna massonica in Oregon. Una versione più breve. Ok? Entra, un ingresso molto stretto. È la stessa caverna, però. Ci si addentra. Ci si addentra. È molto scura. Molto scura. Deve fare veramente paura trovarsi in un luogo del genere ed immaginare che cosa avviene al loro interno. Ok? Ok? E parlando di caverne, come non parlare del mitreo. Del mitraismo. Eccolo qua. Lo dicono loro stessi. Ecco il dio mitra. The secret teaching of all ages. Ok? Gli insegnamenti segreti di ogni era. Mitra as Kronos. Kronos, Saturno. Mitra come il re Saturno. Al pinnacolo della gerarchia divina. Scrive Franz Kumont. E all'origine di tutte le cose la teologia mitraica. Mitra. Ok? Un'altra rappresentazione iconografica di Mitra. Per non ripetermi, anche perché ho fatto ben tre video su Mitra, quindi è un discorso bello lungo, vi invito a guardare i miei video Mitraismo e Cristianesimo, l'imitazio diavoli, la pietra, la caverna, ogni mitreo è la rappresentazione di una caverna. Mitra che nasce da una caverna. Tutto il rituale, il cerimoniale mitraico che avviene all'interno di una caverna. Il sacrificio del corpo e del sangue. Quindi vi rimando a questo video. Altro mio video su Mitra. Mitra nell'impero romano. Il mitreo, i sette gradi iniziatici, mitraismo e massoneria, religione globale. Ok? Mitraismo e massoneria, il mito della caverna, caverna o mitreo. Ok? altre immagini storiche delle loggie massoniche che si riuniscono nelle caverne. Ecco, un'altra caverna, questa volta chiusa dal cancello. che dice, molte loggie, sia negli Stati Uniti che altrove, hanno una lunga storia di incontri all'interno delle caverne. La caverna, infatti, è un'importante caratteristica attraverso tutta la storia della massoneria, Freemasonry sia come un luogo fisico che un simbolo metafisico molto importante al rituale massonico come transizione dalla oscurità primordiale alla luce del primo grado della cerimonia iniziatica. Ok? Quindi, la caverna, guardatevi i miei video su Mitra. Questa è la massoneria. Grazie, stelle, grazie per essere stati con me. Baci da Nirvana.